Io sono piacevolmente sorpreso dal numero di persone, dalla quantità di persone, non solo militanti della Lega, cittadini che hanno deciso di condividere con noi questo momento, nonostante un po' gli avversari politici avessero fatto un po' di terrorismo psicologico nei giorni scorsi nei confronti della Lega. Quindi vuol dire che l'anima della Lega c'è, la voglia della Lega di andare a governare in modo serio attraverso un accordo serio di centrodestra per noi all'ordine del giorno. Quindi dal 25 cosa mi aspetto? Dal 25 mi aspetto un successo del centrodestra netto, in modo che dal giorno dopo si possa sapere esattamente chi ha vinto le elezioni e poi soprattutto all'interno del centrodestra un grande risultato della Lega.